Chiusura della votazione. In questo modulo verrà illustrata la delicata fase delle operazioni di chiusura della votazione, di scrutinio delle schede, di registrazione dei voti e di consegna del materiale, durante le quali devono essere effettuati alcuni importanti riscontri necessari per dimostrare la regolarità delle operazioni di votazione. Alle ore 23 della domenica il Presidente dichiara chiusa la votazione. Se a quell'ora ci sono ancora elettori che devono votare nella sezione, bisognerà attendere che tutti abbiano votato prima di chiudere le operazioni. Il Presidente può chiedere ad uno scrutatore di prendere nota del nome di ogni elettore in fila ed ammettere al voto gli elettori in quest'ordine. L'importante è consentire a tutti di esprimere il proprio voto. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente, dopo aver sgombrato il tavolo dagli oggetti e le carte, inizia le operazioni di riscontro. In particolare si raccomanda di raccogliere tutte le matite copiative usate per la votazione, contarle e custodirle personalmente. In primo luogo, per un corretto svolgimento delle operazioni di riscontro, occorre ricordare che sono considerati elettori i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali del Comune, mentre per votanti si intendono gli elettori che hanno effettivamente votato. In secondo luogo vi ricordiamo alcune regole fondamentali da seguire per effettuare correttamente le operazioni di riscontro. Il sabato, al momento dell'insediamento del seggio, si deve autenticare un numero di schede pari al numero di elettori assegnati alla sezione. Bisogna ricostituire il numero delle schede autenticate il sabato ogni volta che viene ammesso al voto un elettore non assegnato alla sezione, autenticando una scheda in più per ciascuno di essi. Si devono annotare nel verbale tutti i casi in cui l'elettore è stato ammesso al voto ma non ha inserito la scheda nell'urna. Il presidente accerta quindi il numero totale degli elettori che hanno votato e lo registra nel paragrafo 17 del verbale. L'operazione consiste nel contare e sommare tutti coloro che hanno votato nella sezione, compresi coloro che hanno votato pur non essendo iscritti nelle liste sezionali. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore o elettrice la cui scheda sia stata inserita nell'urna, si trova apposta nell'apposita colonna la firma di uno degli scrutatori. Lo stesso vale per i cittadini dell'Unione Europea iscritti nella lista aggiunta. Nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura, luoghi di detenzione o elettori che hanno votato al domicilio, il numero degli elettori che hanno votato con queste modalità si ricava dal verbale del seggio speciale o dell'ufficio distaccato. Attestato il numero degli elettori che hanno votato, bisogna accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e quello degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. Anche il numero di questi ultimi elettori si desume dalle liste della votazione. Occorre però prestare attenzione ai casi in cui l'elettore è stato ammesso al voto ma poi non ha inserito la scheda nell'urna. Ad esempio l'elettore è allontanato dalla cabina e non riammesso al voto. Ai fini di questo riscontro questi elettori vanno considerati come votanti in quanto hanno utilizzato una scheda di votazione. Se la corrispondenza non può essere accertata, probabilmente è stato commesso qualche errore e pertanto è opportuno ripetere i conteggi. Se anche dopo il riconteggio i numeri non coincidono, si deve attestare la mancata corrispondenza al paragrafo 20 del verbale precisando la motivazione. Ultimate le operazioni di riscontro, l'ufficio inserisce nella busta 2 euro le liste della votazione e i registri per la notazione del numero della tessera elettorale personale. Le liste degli elettori utilizzate per la votazione sono firmate in ciascuna pagina dal presidente e da uno scrutatore. Ricordiamo che oltre alle liste sezionali maschili e femminili possono essere presenti le liste aggiunte dei cittadini dell'Unione Europea e le liste degli elettori degenti o detenuti. Successivamente l'ufficio riunisce le schede avanzate a fine votazione, sia quelle autenticate che quelle non autenticate, distinte in due diversi pacchetti, e le inserisce nella busta 3 euro. Le due buste vanno sigillate, firmate dal presidente e dalmeno due scrutatori, più eventualmente i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta e consegnate all'addetto dell'ufficio elettorale del Comune. Lo scrutinio. Il presidente, prima di procedere all'apertura dell'urna, distribuisce gli incarichi fra gli scrutatori. Scrutinare le schede votate vuol dire esaminare le schede e assegnare i voti in esse contenuti. Lo scrutinio non deve essere interrotto e deve essere ultimato entro 12 ore dal suo inizio. Allo scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista accreditati e gli elettori della sezione. Vediamo ora la sequenza delle operazioni di scrutinio, così come disciplinata dalla legge. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae la scheda dall'urna e la passa al presidente. Il presidente legge ad alta voce la lista votata e il cognome del candidato o dei candidati per i quali sono state espresse le eventuali preferenze. Il presidente passa ad un altro scrutatore la scheda scrutinata che la mette assieme alle schede già esaminate di uguale espressione. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio e li enuncia progressivamente. Queste sono le prescrizioni della legge in ordine alle operazioni di scrutinio. Non si può estrarre dall'urna una scheda se quella estratta prima non è stata scrutinata ed i voti registrati nelle tabelle di scrutinio. Le schede possono essere toccate solo dai componenti dell'ufficio di sezione. Infine, ricordiamo che durante lo scrutinio tutti i componenti dell'ufficio di sezione devono essere presenti e non possono allontanarsi dalla sala. Nello scrutinare le schede occorre tener presente che l'elettore può esprimere il proprio voto valido in modi diversi. In primo luogo, l'elettore può manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta oppure nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l'elettore esprime due o tre preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda o della terza preferenza. Nel caso di espressione di tre preferenze non ha alcuna rilevanza all'ordine in cui vengono indicati i candidati di sesso maschile e femminile nel senso che possono essere validamente votati in successione prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso. Può accadere che alcune schede per il modo in cui il segno è stato tracciato per qualsiasi altra ragione siano di difficile interpretazione. Nei casi dubbi sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto a quella che ne sancisce la nullità. Va ricordato infatti che la validità dei voti è ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Le schede sono nulle quando non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge oppure quando presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere. Costituiscono ad esempio segni di riconoscimento il motto sei forte, riferito al candidato preferito le parole sì o ok scritte sulle righe relative all'espressione della preferenza. Inoltre sono nulle le schede nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco ciò implicando che i segni di voto non consentono di individuare con certezza né il candidato né la lista per i quali l'elettore ha votato. Va al riguardo precisato che i casi di nullità del voto di lista determinano sempre la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella stessa scheda. Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista. Durante lo scrutinio può accadere altresì che i rappresentanti di lista sollevino obiezioni riguardo all'attribuzione dei voti contenuti in una scheda. Se ciò avviene, è il Presidente che deve decidere se accogliere o non accogliere la contestazione anche sentendo il parere degli scrutatori. Se il Presidente ritiene che la contestazione riguarda un caso effettivamente controverso decide se attribuire o no il voto contestato. Nel primo caso si tratterà di un voto contestato e attribuito che è un voto valido a tutti gli effetti da registrare nelle tabelle di scrutinio tra i voti validi e nel paragrafo 28 del verbale. Nel secondo caso si tratterà di un voto contestato e non attribuito da registrare nelle tabelle di scrutinio alla voce voti contestati e non attribuiti e nel paragrafo 28 del verbale indicando i motivi della contestazione. Le schede contenenti i voti contestati sono timbrate sul retro con il bollo della sezione firmate dal Presidente e dalmeno due scrutatori ed inserite nella busta 5A EUR se contenenti voti provvisoriamente assegnati ovvero nella busta 5B EUR se contenenti voti provvisoriamente non assegnati. Al termine dello scrutinio l'ufficio riporta nelle verbale al paragrafo 30 i risultati dello stesso. Il Presidente deve anche accertare la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato. già attestato al termine delle votazioni al paragrafo 17 del verbale. Questo accertamento va attestato al paragrafo 29 del verbale dove verranno sommate le schede bianche le schede nulle le schede contenenti i voti contestati e non attribuiti e le schede contenenti i voti validi. Il totale dovrà corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Infine ricordiamo che l'impossibilità di accertare la corrispondenza fra il numero dei votanti e le schede scrutinate impedisce di dimostrare la regolarità delle operazioni della sezione e determina l'invalidità delle stesse. Ai fini del corretto inserimento dei risultati dello scrutinio nell'ambito del software dedicato i Presidenti di seggio sono invitati a supportare i delegati del Sindaco a mezzo dettatura nell'operazione di digitazione dei dati estratti dal verbale riguardante il risultato elettorale. I Presidenti non dovranno pertanto abbandonare il seggio finché i dati non risulteranno corretti e non sarà stato possibile procedere al consolidamento degli stessi sul software per la gestione dei risultati elettorali. Tanto viene richiesto a tutela dei medesimi Presidenti atteso che la verifica della quadratura dei dati presuppone la correttezza delle informazioni inserite nel verbale delle operazioni. Formazione e consegna delle buste. Una volta chiuso lo scrutinio l'ufficio firma il verbale delle operazioni e gli altri stampati utilizzati durante le operazioni. Ricordiamo che questo materiale può essere firmato anche dai rappresentanti di lista presenti. Subito dopo l'ufficio procede alla formazione delle buste con gli atti delle operazioni e al loro invio agli uffici elettorali competenti. In particolare la busta 5D EUR contiene le schede deteriorate quelle riconsegnate non autenticate o ritirate agli elettori che indugiano o che non hanno espresso il voto in cabina. La busta 5C EUR contiene le schede bianche e le schede nulle. La busta 5A EUR contiene le schede con voti contestati e provvisoriamente attribuiti e i relativi documenti. La busta 5B EUR contiene le schede con voti contestati e provvisoriamente non attribuiti e i documenti relativi ai reclami e alle proteste eventualmente presentati nel corso delle operazioni. La busta 5A, 5B, 5C, 5D EUR insieme alla tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso modello 24 EUR vanno inserite nella busta 5 EUR. Le schede contenenti voti validi e la tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero modello 23 EUR vanno inserite nella busta 4 EUR. Infine le buste 5A EUR 5B EUR 5C EUR e 5D EUR insieme al primo esemplare del verbale modello 15 EUR e agli atti a questo allegati alle tabelle di scrutinio con frontespizio e rosso alle carte relative a proteste e reclami vanno inserite nella busta 5 EUR. La busta numero 4 EUR e numero 5 EUR saranno recapitate tramite il Comune alla Cancelleria del Tribunale o della sezione di staccata del Tribunale per il successivo inoltro all'Ufficio Elettorale Provinciale. La busta 6 EUR contiene l'altra copia del verbale e il secondo esemplare delle operazioni dei seggi speciali e volanti che viene consegnata presso la Segreteria del Comune. Chiunque vi abbia interesse potrà prendere visione ed estrarre copia di questo esemplare del verbale. Infine il Presidente inserisce nella busta 8 EUR tutti gli oggetti avanzati dopo le operazioni da riconsegnare al Comune. Ricapitolando la busta 6 EUR e la busta 8 EUR vengono depositate nella Segreteria del Comune. Ricordiamo che le buste devono essere sigillate timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore.